Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo del metodo di Feynman. Richard Feynman è stato un premio Nobel per la fisica nel 1965, ma è famoso nell'ambito dello studio universitario perché ha proposto una metodologia di studio che, seppur semplice, è particolarmente efficace perché è un po' controtendenza, un po' anticonformista, proprio come era lo stesso autore che l'ha proposta, da cui appunto prende il nome. Ora, la metodologia si basa sostanzialmente sull'eliminare, un po' sul superare un metodo di apprendimento troppo meccanico, troppo statico, troppo basato su un apprendimento lento che dipende esclusivamente da una mera memorizzazione. Quello che propone l'autore è invece di cercare di porre il soggetto che studia, quindi lo studente, in un ruolo attivo. Questo ruolo è principalmente centrato sul creare una infarinatura iniziale di ciò che lo studente deve apprendere e a partire da questa infarinatura che, seppur sommaria, rappresenta la base sulla quale poi, in modo graduale, attraverso i vari step, che adesso vediamo in particolare i tre punti principali, può essere migliorata e ottimizzata. Vedrai subito che riuscire ad applicare le metodologie proposte da Feynman è piuttosto semplice perché si basa su dei principi che, seppur elementari, comunque riescono a dare dei risultati significativi. Quindi, senza perderci in chiacchiere, partiamo subito dal primo elemento che rappresenta l'inizio di questa infarinatura che deve essere creata. Come primo esercizio, come primo step per riuscire ad apprendere realmente ciò che stai studiando, prova a spiegarlo ad un bambino o comunque qualcuno che ha nei primi anni di vita, che riesce a capire il linguaggio. Quindi parliamo comunque di bambini o puoi immaginare di spiegarlo ad un bambino ma se lo fai in prima persona è sicuramente molto più efficace e questo ti permetterà di basarti su un livello di linguaggio molto semplice. Quindi senza costruzioni sintattiche troppo complesse che poi sono anche difficili da comprendere non solo per un interlocutore che ha solo qualche anno di vita ma anche per persone più grandi e spesso dietro questa complessità sia in termini di sintassi ma anche in termini di scelta delle parole si nasconde un'incapacità di rendere in modo chiaro il concetto che hai studiato che stai studiando e il tema che hai approfondito. Quindi questo è il primo elemento fondamentale basati su una spiegazione molto semplice proprio come faresti con un bambino. A questo si può associare ad esempio il fatto di incorporare degli esempi che possono essere molto utili per riuscire a portare a livello pratico quello che stai spiegando da un punto di vista esclusivamente teorico. Poi a questo può essere associato anche individuare prima di tutto i punti fondamentali e poi continuare la spiegazione dando dei punti fermi che possono essere appunto compresi anche da un bambino. Questo è il primo step e ti fa capire subito che dobbiamo partire proprio dagli elementi fondamentali su cui poi dobbiamo costruire. E arriviamo al secondo step. Una volta che hai spiegato la prima parte o comunque le fondamenta di ciò che hai studiato sicuramente emergerà qualcosa che non sai nello stesso modo a tutti i livelli. E quindi queste lacune che sono normali, sono fisiologiche quando studiamo devono essere approfondite e soprattutto devono essere colmate. E per riuscire a farlo, per riuscire a portare l'apprendimento il più possibile tutto su uno stesso piano dobbiamo proprio agire su queste lacune. Quindi parti dai tuoi punti deboli, parti da quei concetti per cui perdi troppo tempo nella spiegazione vuol dire che ancora non hai l'idea abbastanza chiara da semplificare nel modo corretto e poi a partire da questi punti deboli cerca di trasformarli se non in dei punti forti comunque a portarli a quel livello che ti serve per avere una preparazione che sia completa quindi che faccia riferimento a tutto quello che hai studiato ma al tempo stesso anche abbastanza solida. Anche perché talvolta proprio queste lacune sono quelle che possono giocare a tuo sfavore nel momento in cui ti trovi a dover affrontare l'esame. Quindi queste lacune sono quelle che poi diventano il vero problema quando il docente si trova a farti una domanda e se non sei preparato comincia a calare il voto proprio per una mancanza di completezza nella preparazione. E questo è il secondo punto del metodo di Feynman. Dopodiché facciamo riferimento alla rielaborazione e poi alla semplificazione di quello che stai studiando. Questa rielaborazione permette non solo alla luce di quello che hai già fatto quindi costruito le base e cominciato a creare una preparazione completa devi inoltre cominciare a far tuo il contenuto. Questo non vuol dire aggiungere delle forzature, non vuol dire creare dei collegamenti dove non esistono. Questo ti porterebbe a inventare, non a studiarne, tantomeno ad apprendere. Ma devi essere in grado di elaborare le informazioni in modo tale da fare in modo che queste diventino un po' una parte del tuo bagaglio culturale per quanto possibile. O comunque devono farlo, devono esserne parte almeno per il periodo che ti serve fino a fare l'esame e poi si prospetta e si spera anche dopo di questo. Terminate queste tre fasi è necessario adesso concentrarsi su una verifica di quanto appreso. E qui Feynman ci consiglia di non ripetere da soli, quindi guardando il muro, guardando il tetto, ma dobbiamo cominciare a ripetere con qualcuno davanti. Se è possibile sempre lo stesso bambino, la stessa bambina che abbiamo ripetuto all'inizio per continuare ad alimentare questo senso di semplicità e chiarezza che dobbiamo risviluppare ma al tempo stesso anche se dobbiamo ripetere a qualcuno e spiegare, esporre a un amico o al fidanzato, la fidanzata o a un genitore, a chiunque sia nella condizione di poterci ascoltare Feynman ci consiglia soprattutto di ripetere a qualcuno che non conosce il tema, almeno in una fase iniziale, così da fare in modo che la necessità di rendere chiari i concetti fondamentali faccia in modo che chi ti ascolta riesca a comprendere anche da profano, potremmo dire, e tu al tempo stesso sei riuscito a spiegare qualcosa a chi quel qualcosa non lo conosce. Poi essere in grado di aggiungere terminologie complesse, di aggiungere esempi come ti accennavo poco fa o aggiungere anche delle specificazioni ti permette di poterne parlare anche con qualcuno che ha una piena padronanza degli argomenti e in questo caso mi riferisco ovviamente al docente in sede di esame. Quello che potrebbe essere un errore che emerge in queste diverse fasi in cui parti proprio dagli elementi più semplici andando via via a costruire, che non c'è una parte più e una parte meno importante. È fondamentale concentrarsi sugli elementi semplici, ma è altrettanto fondamentale anche approfondire ed approfondire a livello richiesto dall'esame. Infatti non cadere nella trappola di semplificare troppo quello che stai studiando, perché questo trasformerebbe lo studio in un apprendimento troppo superficiale, troppo basato sui concetti importanti, ma senza andare oltre il minimo indispensabile. Ma siccome vogliamo ottenere sempre i migliori risultati possibili, dobbiamo fare in modo che lo studio, quindi la preparazione, siano il più completo possibile con tanto di dettagli, con tanto di esempi, con tanto di specificazioni. Quindi non ti fare prendere la mano dal puntare troppo alla semplicità, parti da questa ma aggiungi i contenuti che ti servono. Ora, alla luce del metodo che è stato proposto da Feynman, ci rendiamo conto che vi è una grande distinzione, o comunque questo era quello che presupponeva l'autore stesso, tra, e te l'ho detto all'inizio, una forma di memorizzazione molto blanda, molto statica, in cui il soggetto, lo studente, non ha un ruolo attivo e che spesso, se non sempre, è associata a una dimenticanza delle informazioni che sono state, o si è tentato di studiare, in tempi molto brevi. Questa forma di dimenticanza deve essere, tra virgolette, non dico combattuta, ma comunque avviata, attraverso un apprendimento molto più completo. E quello che abbiamo visto, come metodo di Feynman, è proprio la soluzione, il come devi riuscire a trasformare una mera memorizzazione in un apprendimento completo, un apprendimento in cui, da studente o studentessa, hai un ruolo attivo, hai un ruolo che richiede una tua partecipazione ed elaborazione ai diversi livelli di difficoltà, come abbiamo visto dalle tre fasi in particolare. A questo punto voglio lasciarti con una citazione dello stesso autore che fa un po' da riassunto e anche simpatico ascoltare le parole di chi ha proposto qualcosa che abbiamo visto oggi in particolare e, come diceva lo stesso Richard Feynman, si può studiare il nome del tordo in tutte le lingue del mondo, ma comunque non sapere niente su qual è il suono che emette, qual è il diverso punto geografico di migrazione, né tantomeno conoscerne i colori, né tantomeno i rituali di accoppiamento, eccetera. Quindi sapere memorizzare non è assolutamente una forma sufficiente per apprendere in modo corretto. A questo punto spero di averti aiutato a capire che cos'è il metodo di Feynman e ti invito ad applicarlo. Fammi sapere nella sezione dei commenti come ti trovi con questo metodo o se utilizzi un metodo diverso, fammi sapere anche questo. Leggo i commenti sempre con molto piacere e soprattutto se posso cerco anche di aiutarti o comunque possiamo condividere insieme le nostre esperienze. A questo punto ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornata o aggiornato sui video che escono quotidianamente in cui affrontiamo tutti i temi più importanti della psicologia applicata allo studio e in generale di una carriera universitaria di successo. A questo punto ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto nel video che uscirà domani.